Ciao a tutti quanti ragazzi Siamo di nuovo in live E giocheremo a Minecraft E c'è anche il mio ferro Allora ragazzi Speriamo che qualcuno Venga a vedere la mia live Viste che ho scritto su Instagram C'è il nostro Instagram Su Whatsapp Che sto facendo una live E speriamo che venga qualcuno Ogni tanto sottirete O delle voci o dei rumori Perché io Praticamente in ogni video Si sentono dei rumori e voci E io li taglio sempre Oppure metto in pausa Quando uno sta gridando O parlando E metto in pausa subito Ok Siamo qui in miniera Allora Togliamoci la La terza persona fruttare Ok Siamo in miniera Ho esplorato un po' la miniera Mentre voi non ci eravate E ho trovato Sì Ho trovato Dai Martina Di nuovo tu Allora Ho trovato Pietra rossa Ho trovato oro E ho trovato Molto ferro Questo concentrato Invece me l'ha detto Uno scheletro Che ho trovato Allora Prendiamo il ferro Speriamo che l'acqua Non ci dia fastidio Visto che io Odio l'acqua Nelle grotte La odio Sono una delle cose Che di più di me Solo Mi piace solo Quando solo È utile Sennò Cioè Non ha senso Così Sta là E ti dà fastidio E non ti fa passare Allora ragazzi Io sono stato Per tantissimo In questa grotta Voi Non c'eravate Allora Facciamo Così Oh beh Ormai Ok Andiamo Allora Dobbiamo esplorare Gran parte Della miniera Cioè La miniera La grotta Non la miniera Oddio Avete visto anche voi Il bug che c'è stato Che succede ogni tanto Ah Poi Verso Tra un po' Troppo Tanto Forse tanto Vi farò vedere La Vi farò vedere La casa Con uscita Scusate per questi rumori Per queste voci Ok Ok Allora Scusate per i rumori Qui abbiamo No Pantareson È uno zombie Poverino Poverino Scusate per i rumori Le voci Sì Allora Usciranno su youtube Le vostre voci Eh Quello non è qualcosa Io vi ho avvisato Vai Fatti sotto Fatti sotto Fatti sotto Brutto Infame Fatti sotto Ah Un elmetto d'oro Così me lo posso mettere Come Tipo Corona Ok Ok Questa musica Non ci sta assolutamente Ok Allora Ho avuto idea Allora Prendiamo la La carne Molto buona Carne Carne Buona Non è molto buona Questa carne Però È sempre qualcosa di più Ok Prendiamo La nostra Bella Redstone Allora Anzi Sapete che vi dico Per ora Mi mando Questo E poi Quella corona Non la voglio Assolutamente Consumare Ho trovato Molta Redstone Ok Allora Ok Forse Ce la farò A fare Una cosa Che ti ho pensato Ah Regazzi No Ho lasciato Oh Beh ormai Ho lasciato Delle cose Che Ho sconfitto Uno slime E mi servivano Gli slime Allora Cercherò Di andare Nella pallura Di notte Visto che Oh Meno male Che ho scavato Un blocco Per caso Ho trovato Un terzo Allora Allora Ok Abbiamo Molta Quanto è Quanto è Sto Mi vedo È Troppo Ok Quanto ne hai Maggi Ragazzi Non 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 Diamanti Diamanti Sì Eh Cosa fa schifo Va schifo Diamanti Tre diamanti No Potrei lasciare Le scale Ok Scavo Qui torna Già Non 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 Marti Ma Si sentono Rumori Strani Marti C'è Oh Le scale Mi sono state Utili Si sentono Rumori Strani What Cioè Scusate Allora Ragazzi Allora Cosa Cosa devo Fare Ah Si Allora Craftiamoci Una bella Bellissima Crafting table Cosa devo Farci Anzi Oh no Due 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 Spettatori Fantastella Ciao Ciao Fantastella Mi saluti Ti ha detto Ciao No Lei ha detto Mi saluti Ciao Che ti saluta C'è Fantastella Non me ne ho accorto Ok vabbè mi saluti che non è che sono uno youtuber uno youtuber bravissimo di quelli che dico mi saluti mi saluti arrivano 300 miliardi di commenti allora devo craftarmi il piccone di pietra si sto dicendo perché non c'è il piccone di pietra poi l'ho vista ok prendiamo il ferro prendiamo il nostro bel ferro che ne ho tantissimo allora i commenti ok sono sempre gli stessi li chiudo allora città allora cosa che dovevo farci dovevo scavare intorno quando ci sono diamanti vuol dire che c'è qualcos'altro intorno allora carbone non è utile ne ho fin troppo quindi non lo pre... cos'è stato? avete visto? avete visto? ok aiuto se non è andata ok quanto stelle iscriviti al mio canale sono già iscritto al tuo canale ok no tu l'hai iscritto è quanto stella è quanto stella diciamo ah aspetta 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 come una scema ovviamente andate a seguire il suo vecchio canale così così lei rimarrà da scema 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 scemino allora quanta stelle non sei andata perché te ne sei andata oppure ritorna scriviti il mio canale sono già iscritto al tuo canale guardate la mia live nessuno sta guardando la mia live quanti avete quanti spettatori molti quanti spettatori marty quanti spettatori quanti spettatori non so e guarda ma tu su youtube stai giusto a vedere ma da youtube vedi la mia live giusto ma da youtube ma da youtube vedi la mia live giusto oh oh e non risponde oh dormi tu dormi tu suona le campane ragazzi io mi so che dovrei dare la grotta a quanto siamo di registrazione non lo so vai via vai via vai via vai via muori ora torcia di torcia allora ragazzi allora non so perché sto cantando la canzone di natale non so se vi sto anagliando o se ci siano tanti spettatori spero che ci siano più di due spettatori non so i superveri fanno le live con 300 spettatori con almeno tutti stanno l'acqua ti volevi nascondere no 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 non si fa non si fa non si fa non si fa ok 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 scusate 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 mi fa male la schiena oh lì vedo altre adesso sono ricco di resto ricco ricco ok ecco 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 ecco